Eccoci qui, rifugiati da qualche parte, un po' tranquilla. Dunque, cominciamo da questa cosa che ho osservato. Poiché i miei video non consentono i commenti, c'è qualcuno che è indispettito deve mettere pollice verso. Allora, ve lo dico con calma, bimbi minchia. E per bimbo minchia io non è che intendo necessariamente persone giovanissime. No, il bimbo minchia è proprio un atteggiamento mentale, un certo livello di immaturità mentale che può avere chiunque, uomo, donna, di qualunque età, di qualunque estrazione sociale. Allora, carissimi, guardate che io conosco l'uso di questi attrezzi dal 1980. Ho cominciato a lavorare con i computer quando erano fatti di cilindro, scheda di carta perforabile, codice binario 1, 0. 1980. Guardate che nel 1982 io sono diventata dipendente del IBM, International Business Machine e sono stata una IBMers fino al 1994. Badate che io ho continuato a utilizzarli, questi attrezzi, successivamente quando ho aperto una mia attività con partita IVA, ditta individuale. Io sono la titolare di HEMP, stradone Sant'Agostino 26 Rosso Genova. Andatevi a cercare su Google, su Google, googleate. Ora, la mia conoscenza di questi attrezzi è quarantennale. Cari bimbi minchia, sappiate che per come funzionano gli algoritmi è tutta visibilità, sia che metti pollice su, sia che metti pollice giù è sempre visibilità. L'algoritmo la riconosce come visibilità. Nel non mettere commenti io automaticamente, diciamo, danneggio la mia visibilità perché se lasciassi i commenti, anche negativi, anche insulti, quello che volete, anche il mobbing, come cazzo vi pare, aumenterei la mia visibilità. Ma questi video che sto facendo sono per quelle generazioni che ancora non sono nate, quelle che dovranno venire, quelle generazioni che studieranno a scuola ciò che è successo in questo periodo. Ci saranno giovani, maschi o femmine, che faranno tesi di laurea su questo periodo storico del nostro paese e sicuramente andranno a vedere sui social, sull'archivio eterno che rappresenta la rete tutto quanto in questo momento stiamo pubblicando. Guardate che io sono una videomaker da dieci anni e appunto, come ho già detto, di canali mio 3. Questo canale lo sto utilizzando con il mio nome e il mio cognome perché voglio dare l'opportunità agli studenti universitari del futuro di poter citare il mio nome e il mio cognome tra le testimonianze che serviranno a fare l'analisi di questo periodo. e per ora la chiudo qui.